Giorri, Alba, Manacutino, il sinistro finale, si salto, costito, la finalità come la parte, la controlla e la pierde, Busquets, 2 minuti, Alba, cuore nel tempo regalato, venita, la semelo, si, il cuore, con il valore, l'ombre, c'era Passini, Alba, Alba, per regalato, falta di Passini, si, 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 fa un'intelligente, diria io, e a casa la tiene che cobrare del tega, wow, e la persona qui lo ha salvato, wow, che viene a perdere la pelota, wow, la comodò, sta Giorri Mina arriva, atencion, eh, a ver se aprovecha la estatura de Mina, wow, 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 è una infecciazione poco pitabile perché già la aveva despegato già aveva ganato e il valore è stato desviato è che la vera del anno solo il Atleti Club di Bilbao e il Real Madrid ha finalizzato campeone e invito 1930 quando erano meno equipi anche era Macias se jugava 18 partidos per temporada erano 10 equipos in il 30 avea sido il Real Madrid la tettica Club di Bilbao e il 32 è il Real Madrid la parte di Gerry Mina sulle Passini me lo manda a pintar Raffanio il corso piano tempo cumplito è la ultima del partito è il nostro regno è il nostro regno è il nostro regno la ragione è il nostro regno del palco è il nostro regno in Italia Sì